Salve a tutti ragazzi, bentornati su noi sul tubo, qui è Sognacca che vi parla in compagnia di... In compagnia della sua ragazza, Giorgia. Ciao a tutti. E questo qui è un video aggiornamento, perché volevamo aggiornarvi di quello che stiamo facendo. Io sono arrivato al livello 75 e ho comprato questa bellissima velenosa... A quanti won, Giorgi? Non mi... Oddio, non lo so quanto era. 29 won, infatti sono poverissimo, 153 che ho fatto. A 29 won, infatti è rimasto senza soldi. Sono rimasto in mutande, praticamente. Poi ho le scarpe ancora di Double Drop, che ringrazio perché sono andato in cova di Xpane. E oggi, niente, il video aggiornamento è finito, ci vediamo al prossimo. No, scherzo. Ho un po' di poste arretrate, quindi apriamo quelle, Giorgia, che dici? Sì, apriamo quelle e facciamo i dovuti ringraziamenti. Apriamo la casella di posta, andiamo dal primo, che da un po' che non le apro, infatti tra dieci giorni scadeva pure. Per le amnesie ci scrive Wu Skywalker, che ci invia Aulo della Spada! Bellissimo, perché ha scritto per le amnesie? Poi, tocca a te, Wu Wakerato ci invia Benedizione, libro delle amnesie, che accetto più che volentieri che servirà per la sciamana, che ho chiamato Giorgi 997. Poi il mitico Wordudas ci dice studia, perché devo studiare che ho ancora non studiato abbastanza. Ci inviò un bel libro di Aulo della Spada! Grande Wordudas! Un fatto Wordudas, grandissimo Wordudas, che ringrazio con tutto il corazon. Poi c'è un'aura di Ace, che però ce lo manda Double Shards, che è il nostro caro DD. Allora, poi eccolo! Ci scrivono, eccolo. Droppo sfighe, fa un dissing a Wuakerato, infatti scrive Yaka maggiore 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 di Wuakerato, con O-O, la faccina. E ci invia, indovina Giorgi che libro è? Aula della Spada! Vortice di Spada, sempre di Spada si tratta, ringraziamo Troppo Sfighe, poi leggilo da Wordudas, che ci invia, taglio tre vie, che mi servirà tra un bel po', però ringraziamo di nuovo Wordudas, non l'accetta, la festa di solita. Allora, Another One, che Giorgia sa l'inglese e sa cosa vuol dire. Un altro ancora. Grande, grande, però qualche posto l'ho eliminata, perché Ace mi ha veramente riempito, però lo ringrazio per questo Vortice di Spada. Poi Ace ci invia, te la riempio tutta, attenzione. Eh, cosa è? La posta, ci riempie la posta, e Vortice di Spada! Poi Yharnam, il mitico Yharnam, che da un po' che non lo sento, ciao Yharnam, ti saluto, ci invia una bella pietra, che è pietra della difesa più 4, attenzione, attenzione. Ringraziamo Yharnam, Giorgia ringrazia Yharnam, che è molto simpatico. Grazie Yharnam, per questo bellissimo regalo. E Mario King ci invia un arco, ci scrive, un piccolo pensiero, so che non è molto e non c'entra nulla per il tuo war, un abbraccio e buon game. Grazie mille Mario King. Un bell'arco, 4 medi, quindi lo occuperò e poi lo girerò. Ah se andiamo a unparlo, va quasi quasi, Giorgi. Andiamo a unparlo, perché poi se va bene lo giro e mi faccio il ninja arco, che serve come ben sai per le schegge. Poi qui c'è la statua del 120 che è sempre in CH3, questo tutti i giorni, 24 ore al giorno sta qua, ma sto cavallo, ma non hai a fessare il cavallo, vabbè andiamo. Da chi dobbiamo andare, Giorgi? A uppare. Dall'armaiolo. Abbiamo, ma ne sei tutte, brava. Ormai sei più esperta tu. Comunque queste scarpe le dovrei dare a Double Drop, eh. Solo che mi sono dimenticato, dopo lo andiamo a trovare. Con l'armaiolo vuoi, Gilda West oppure Falcon? Falcon. Va bene, sono già qua. Iniziamo loop, vediamo, devo fare cos'è, già più 2? Attenzione, più 3? Andato. 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 Eh, ti porto fortuna, visto? Più 5, incredibile. Già pochi soldi poi. Distrutto, fa fesso. Vabbè, niente ragazzi. Ma più 5 è andato distrutto. Ringrazio comunque Mario King che me l'ha inviato. Adesso andiamo su circa 5, vediamo se c'è la Double Drop così gli passo le scarpe. Eh, mi sono servite molto in covo 2 perché quelle danno blocco. Mi passo col braccio alzato, come un deficiente, mannaia. Eh, mi trovo a chiudere il gioco, aspetta. Ah, è qua, è qua. Eccolo qua. Eh, ma si è spostato però, prima era dall'altra parte. Non mi vuole rispondere il mitico. Adesso gli faccio un ruolo della spada in faccia. E come sente l'odore del duello, lui arriva subito. Vabbè, aspettiamo. Intanto spacchettiamo le casse frammento, si chiamano, giusto? Sì. Casse frammento che ne ho 8, solo che ho poco spazio. Aspetta che faccio un po' di spazio nell'inventare. Perché ho un sacco di pozze che sono derivanti dal covo, che sono rimaste... Oddio, tutto pieno. Le casse frammento sono qua? Vabbè, proviamo. Praticamente, ovviamente, si chiamano casse frammento. E le cose buone che possono uscire sono i frammenti, il resto sono libri. Se c'è aura, comunque è già buonino. Io ne ho 8, quindi proviamo. La prima... Libro! Attacco lampo! Che buttiamo, vero, Giorgi? Sì, perché non ci interessa. Esatto. Poi... Libro, schiacco di dita. E Double Drop è tornato in vita. Buttiamo anche questo. Adesso gli diamo le scarpe. Double Drop, stia fermo. Ma mi attacca. Non le accetta. Non le vuole più. Come tranquillo? Te le regala. Ma no, dai! Ma vengono... Vagano a mente. Sì, ho visto che gentile di... Ti faccio anche un coricino. Ok, continuo ad aprire i frammenti nel mentre. Attenzione. Un altro, ma sono libri. Vortice del Drago. Mamma, sto cavallo che sta in mezzo. Ah, serve a Dave. Vabbè, adesso lo lascio per te. Poi. Respiro del lupo. Sto lican. Tutti i libri sono, cioè... Anima e il lupo purpureo! Non mi serve l'anima e il lupo purpureo. Annullamento magia che serve a Dave, che lo buttiamo. C'è quello Dave. Penetrazione che serve a me in realtà, quindi lo tengo. L'attivo talismano volante e il suo spacchettamento è andato male. Solo libri. Poi un'altra cosa che dobbiamo fare, che lo faccio giornalmente, è leggere ovviamente i libri. Quindi iniziamo da Aura o inizia da Estasi? Quella più importante è Aura, comunque. Quella meno importante è Estasi. Aura, Aura. Ah, partiamo già con la cosa più importante. Eh, portami fortuna, però, perché non va mai ultimamente. Sì, io ti porto sempre fortuna. Vado? Vai, vai. Attenzione! Fallito! Che fortuna che c'hai. Grazie, Giorgio, per aver portato fortuna. Non so, c'è come di consueto che leggo poi vortice. Attenzione! Eh, è andato, vortice è andato. Me ne mancano quattro per M9. Similare! Non posso ancora leggerlo. È Estasi, è andato Estasi, perfetto. Hai visto? Dai, due su tre sono andati, dai. È ottimo. Però la cosa più importante non è andata. Portiamo le palle, Giorgio. Sì, quante ne devi portare di palle? Eh, una le porto. Una palla di ghiaccio. Palle di ghiaccio, attenzione! Questa palla di ghiaccio è perfetta, perfetto. Me ne mancano sette e ho finito questa missione qua. Poi inizio un'altra, di diverse tante. Poi spacchettiamo insieme, allora, che ho anche da spacchettare. Ah, bene. Vuoi spacchettare? Ne ho 34, però non sono tanti, eh. Le puoi provare? Va bene, spacchettiamo qualcosa, dai. Sono pochi, eh, però vabbè, qualcosa ci può uscire. L'altra volta con 20 ho fatto un antico. Vediamo se mi ricordo come si fa, che io una volta ero bravo a spacchettare. È andato. Prima, prima devo, però prima devo aprire il core. Ah, sì, è andato, è andato. Il video degli Oni, cioè, bellissimo. Vado, inizio. Si spacchetta sempre in modo bello succoso, succolento. Questo è raffinamento. Vediamo cosa abbiamo. Ah, un po' di diamanti. Vediamo un po' come va. Fallito. Adesso cambia la parola, adesso piuttosto che è andato è fallito. Oh, stanno fallendo, Giorgi. Stanno fallendo, Giorgi. No, sono falliti. Ho perso il tocco. Ho perso il tocco. Mannaggia, dopo che non lo so. Andiamo con Rubino. Eh, una volta ero il mago, adesso... Aspetta. Rubino? È lui? Lo sento? Il Rubino? Ah, Rubino antico! Giorgi, non perde mai il tocco. Attenzione. Allora, continuiamo con la giada. Siamo al tagliato. Vediamo se c'è qualche raro. Un raro. Ok, solo un raro di questa tipologia. Andiamo con lo zaffiro. Andato. Incredibile. Attenzione. Fallito. Fallito. E niente. Niente zaffiro. Granato. Granato non va mai. Granato può fare una sfiga nel sangue. Una cosa incredibile. Aspetta. Aspetta! No, fallito. Fallito. La fregna del granato. Allora, l'onice. Ok, uno è andato. Ma dai, l'onice è il mio amico. L'onice è il mio amico. Però mi serviva il... Come si chiama? Il Rubino perché è fallito. Non ci credo. Vabbè, però Rubino è andato. Su 34. Fare un Rubino, guarda che ottimo. Perfetto. Potremmo osare di più. Però mi accontento, ragazzi. Mi accontento. È stato bello. Bene, sono in CH3 con la statua del 120. E niente. Tu, Giorgi, hai qualcosa altro da dire? No, possiamo salutare tutti. Ringraziamo ancora per le poste. Worduddas, tutti. Cioè, nel senso, ringraziamo tutti. E niente. E noi ci vediamo al prossimo video. Che non so quando uscirà, ma ci sarà. Ciao a tutti. Ciao a tutti.